Il mio padre lo cambia tutti i giorni, lei va fuori adesso, vedi che la gente che passa, c'è quelli che lavorano, gli studenti eccetera, va fuori mezz'ora dopo? Calabriano lì anche più arriva altra gente, sono quelli che vanno a fare la spesa, quello che è stato, basta vederlo, la variazione la si vede e quello che sarà, chi vivrà vedrà perché cambierà sempre. Via Padole non che sia una roba statica ferma, Via Padole è un animale che vive, ha il suo modo di vivere, il suo modo di pensare, di agire. Mi piace troppo, anche dove c'è il degrado e dove c'è l'è, mi piace lo stesso, è come per Milano, Milano a tanti farà schifo, ma io non sono mai andato in campagna perché io se vado dopo un giorno devo tornare subito a Milano perché a me manca come l'aria.